Buongiorno, benvenuti a Occhio ai Giornali, come sempre sfoglieremo le principali notizie sui quotidiani questa mattina, non prima però di aver visto il Santo del Giorno e poi le previsioni del tempo, oggi sabato 8 agosto, San Domenico di Guzman, sacerdote, il sole è sorto alle 6.03 e tramonterà alle 20.24, come vedete le giornate si stanno un po' accorciando, minuto dopo minuto, vediamo cosa ci rimanda il nostro osservatorio meteorologico, temperatura poco sopra ai 23 gradi e un'umidità del 71%, l'immagine della webcam è questa, come vedete cielo bello terzo e limpido, quindi si prospetta una buona giornata, le previsioni della protezione civile ci dicono che il cielo sarà sereno, poco nuvoloso per il transito di lievi e velature nel pomeriggio, addensamenti però più consistenti nel settore montano, collinare durante le ore della giornata, però vedete nella nostra provincia il sole è pieno, c'è simbologia più consistente e anche di pioggia nella bassa Marche e anche nei rilievi, temperature sono in lieve aumento. Domani, domenica dovrebbe essere più o meno come oggi, cielo sereno poco nuvoloso, addensamenti più consistenti nelle ore pomeridiane e ci sono le possibilità, ci sono possibilità di locali rovesci pomeridiani, però sempre sul settore collinare e montano, quindi sulla costa dovremo essere scevri da sorprese, poi per lunedì intensificazione della nuvolosità, come vedete compare una doppia nuvoletta, però nella seconda parte della giornata dovrebbero essere ancora più consistenti, anche i rovesci e le precipitazioni si intensificheranno, però sempre nel settore collinare. Vediamo la tendenza per i giorni successivi, quindi la settimana, come si presenta in stabilità sulle Marche nella giornata di martedì, quindi ci saranno fenomeni possibilmente da martedì in poi, però attenuazione nei giorni centrali della settimana, quindi sarà un transito passeggero. Veniamo ai giornali, ai quotidiani, partiamo dal Corriere Adriatico di Fano, l'attenzione è focalizzata sull'ospedale che è un argomento ricorrente, la dieta con il contenzioso tra Fano e Pesaro, sull'ospedale unico, il sito, ci sono molte discussioni che si stanno portando avanti, anche tavoli di contrattazione, Santa Croce, Polo Depotenziato parla seri che ribadisce il no a Muraglia e anzi chiede alla Regione il Dipartimento di cura per donna e bambino, quindi insomma una sanità rovente, non solo per le temperature e il sindaco dice, occorre il sindaco serie riequilibrare i servizi con Pesaro, convenzioni per parco e opere dell'A14, questa è la sua intenzione. È morto Majorano, politico e uomo di cultura, fu segretario della DC, assessore comunale, di resto il Circolo Maritain, lunedì alle 15.30 il funerale in Duomo per chi vuole dargli l'ultimo saluto. Ancora sul Corriere Adriatico, il Carnevale sembra essere l'altro, insomma, Firruge che tiene legato un po' tutto l'insieme delle notizie di quest'estate e Carnevale senza quattro cantoni, è un po' sottotono, senza Carnevale quattro cantoni sottotono, questa è la lettura giusta del titolo, scusate, oggi in giro per un fan che unisce gastronomia e cultura, visite speciali a Teatro e a San Domenico, quindi insomma tutti i siti culturali della nostra città saranno aperti e visitabili, però insomma una manifestazione, quella di quattro cantoni senza il Carnevale che è stata un po' così, sottotono, meno spumeggiante rispetto alle altre che vedevano i carri presenti nei cantoni adibiti a mangiare e alla musica. Marchegiani nega la piazza per iniziativa ai disabili, lo sdegno dell'Associazione Genitori Sindrome di Williams in interrogazione urgente di Udici e Progetto Fano. Mercoledì Enrico Ruggeri a Marotta, il cantante, il noto cantante, avrà la cittadinanza onoraria e farà un concerto, Jam Session Rock di 60 artisti, la serata segue gli anni 60. Rimaniamo sempre sui quotidiani che vi facciamo vedere, passiamo al messaggero di Pesaro, schianto in A14, una famiglia distrutta, incidente al casello di Ancora Nord, muore il padre, è gravissima, la madre è ferito, il figlio disabile provenienti da Cartoceto e originari di Fano stavano raggiungendo Loreto per un raduno dell'Unità Alci, infatti il mezzo sul quale si trovavano era un mezzo adibito al trasporto dei disabili. Una via per l'arte, la città ritrovata sulla Gavardina, lunedì rinasce la mostra a cielo aperto che ha colorato il centro storico dal 1963 all'88, un evento, 50 ospiti del territorio, l'assessore Vimi dice un legame indissolubile con le nostre radici. E poi Porto Fantasma, blitz della Finanza su porticcioli secondari come quello di Valugola e Gabice, nel Mirino nei controlli della Guardia di Finanza. Il Solleone domina ancora, il meteorologo sentenza insomma che è un'estate calda e torrida e quindi ci saranno problemi anche sul discorso dell'approvvigionamento idrico, continua l'allerta per le riserve. Torna Italo, anche qui di spalla sul Messaggero, in stazione ma per pochi giorni, quindi sarà soltanto momentanea la cosa. NTV ha riattivato la linea soppressa a dicembre, però solo fino al 23 agosto. Rimaniamo nelle pagine del Messaggero, notte delle candele, naturalmente Bagnini al lavoro per presentarsi puntuali a questo appuntamento così affascinante sulla carta. In alcuni stabilimenti saranno tolte le prime file di ombrelloni per poter cenare in riva al mare, piace il format della gruppa dove ognuno si porta un po' quello che ha e lo mette a disposizione di tutti. Lungo i 4 km del litorale si moltiplicano le feste e le manifestazioni in programma, ma non mancano problemi. Ancora dal Messaggero, allerta, come vi dicevo, sull'emergenza idrica, allerta siccità e il Burano resta chiuso, vertice in provincia del Comitato di Protezione Civile per valutare allo stato di approvvigionamento idrico e l'amministratore delegato di Marche Multiservizio Tibiroli dice riserve d'acqua sotto costante controllo, non siamo ancora però in emergenza. Truffa dello specchietto, c'è stata appunto questa conferenza stampa dove è stata presentata un'operazione dei carabinieri di Borgo Santa Maria che hanno arrestato due padre e figlio che utilizzavano questa tecnica per truffare persone che potevano essere fatti oggetto di questa truffa, magari anziani, donne, insomma situazioni un po' così che potevano essere gestite da loro due. Ancora l'ultima pagina del Messaggero che vi faccio vedere è quella di Fano, se rilancia appunto la questione dell'ospedale, nuovo ospedale a Chiaruccia, insiste il sindaco di Fano su questo sito, pressing del sindaco sul governatore Ceriscioli che dice decidiamo e ha proposto anche di riqualificare il Santa Croce come centro di cura per il bambino e per la donna. La polemica della concessione della piazza alle auto d'epoca ma non ai disabili negata appunto ai disabili, Marchegiani risponde, sono tanti i siti d'eccellenza della nostra città, non è soltanto la piazza e appunto Marchegiani dice i volontari dell'AGSV erano al Pincio quindi un altro posto di pregio e anche più facile da raggiungere a scacchi e il bel gioco si conclude il festival, ultime giornate e quindi con questo torneo a livello nazionale. Andiamo a vedere le pagine del resto del Carlino, Fano naturalmente in evidenza l'incidente sull'A14, schianto sulla via di Loreto, more padre, insomma è Corrado Talevi di 71 anni di Cartoceto la vittima e il figlio disabile di 41 anni è in gravi condizioni all'ospedale. Oltre 70 e in 70 ieri si erano diretti al santuario, molti in pullman invece Talevi aveva scelto il suo furgone. Ancora nelle pagine del resto del Carlino di Fano, l'ospedale, ora il sindaco gioca la carta di Chiaruccia ma la scelta deve essere condivisa. Per oggi è stato chiesto un incontro col governatore Ceriscioli, integrazione mancata ancora Fano e Pesaro sono in sofferenza e appunto chiesto il Dipartimento per donne e bambini al Santa Croce. La pagina di Fano e Valcesano del resto del Carlino, vi dicevo l'altro argomento è appunto il Carnevale che tiene insomma unita l'informazione in queste settimane. Caristi e Carnevalesca è guerra, è guerra aperta perché si alza il tirotolo nel 2016 forse solo un nuovo carro. I caristi sono in sciopero, non parteciperanno al bando dei bozzetti e quindi Cecchini replica, dice se non vogliono partecipare, non vogliono fare progetti è un loro problema. Il 10 agosto alle ore 12 faremo la riunione e vedremo chi c'è. Ancora dalle pagine del resto del Carlino però andiamo in quelle che riguardano Pesaro. Giorgia torna a casa per l'addio alla sorella Gloria, la famiglia Rastelletti unita nel dolore sarà tumulata a fianco del nonno, la sorella scomparsa e intanto la tragedia prende più contorni e il padre Stefano ha voluto capire come possa essere accaduto che il fuoristrada ha perso il controllo ed è successo ciò che è successo e ha incontrato il ragazzo che era alla guida il quale è disperato per i tre amici deceduti. La pagina in primo piano del resto del Carlino mette in evidenza un'emergenza stradale di alcuni abitanti. Parla, siamo al Trebbio, parla una famiglia residente lì, dice incroci ciechi e velocità elevate, rischiamo la vita ogni giorno praticamente andando e tornando da Fano per recarci alle nostre abitazioni. Ci sono due punti ciechi, vedete uno è questo, bisogna arrivare proprio a filo della careggiata per vedere chi viene su destra e sinistra però può essere pericoloso perché se la macchina è a ridosso si possono verificare incidenti quindi una situazione pericolosa e stanno allertando il comune su questa situazione anche dalle pagine del resto del Carlino. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella appunto che riguarda Pesaro per il quotidiano bolognese, arrestati padre e figlio, truffatori, erano i maghi dello specchietto perché insomma avevano escogitato una tecnica diversa dalle solite, ve l'abbiamo sempre detto più volte, c'è la pallina da golf che viene tirata contro la macchina, loro utilizzavano una bottiglia con il fondo sporco di nero, la strisciavano facendola sbattere contro lo specchietto per simulare l'urto e poi dicevano guardate c'è la strisciata nera, ci siamo scontrati, questo è lo specchietto e dopodiché scattava il raggiro, i carabinieri hanno inseguito la macchina che l'avevano riconosciuta perché queste due persone erano già state fermate da loro sempre per gli stessi motivi e insomma sono arrivati in tempo e la truffa non è stata portata a termine, sono già liberi perché il giudice ha convalidato l'arresto rimettendoli però in libertà e sono a noto con un foglio di via e poi sempre sui furti e sui raggiri purtroppo con il innalzarsi delle temperature si innalzano questa tipologia di reato però un anziano molto allerta intuisce che in un appartamento limitrofo ci sono dei strani movimenti, suona il campanello, fa qualcosa e la donna che tentava di introdursi dentro casa dell'altra persona anziana è scappata e quindi insomma il furto, il raggiro non si è potuto verificare. Bene, e anche questa è una tipologia di raggiro che noi vi abbiamo sempre detto, persone che si qualificano in vario modo tentano di entrare dentro casa, magari dicendo che sono un'amica, del figlio, soprattutto con le persone anziane quindi attenzione alle persone che non conoscete che suonano alla vostra porta. Bene, grazie per aver seguito Occhio ai giornali questa mattina che tornerà lunedì mattina alle 7.30 naturalmente puntualmente e vi auguro una buona fine settimana a tutti voi. Arrivederci alle prossime. Grazie a tutti. Grazie a tutti.